Ragazzi, che devo farvi vedere? Devo farvi vedere una razzina che è uno spettacolo per le immagini, vedete? Due profili, due persone, di spalla, quasi in lite, perché c'è una situazione di tensione, vedete come c'è un cuore sentimentale, vedete? Che abbiamo? Anche qui abbiamo situazioni sentimentali. Qui addirittura abbiamo una piuma che è un valore importante di pacificazione. Qui invece c'è un successo, c'è una persona in camicia bianca che discute. Qui abbiamo un triangolo e un'energia, energia importante.